Una buona raccolta differenziata passa anche e soprattutto attraverso la sensibilizzazione dei cittadini. Sono loro il punto di forza e la marcia in più. Lo sottolineano dall'Aggiunta Comunale di Noncera Inferiore e dalla Commissione Ambiente. Raggiungere il 65% di raccolta differenziata non deve essere solamente un dato numerico, ma soprattutto un cambio di mentalità radicato all'interno del cittadino perché se fino ad ora si è fatto in un determinato modo non è detto che quel modo sia giusto. Quindi è importante perciò la sensibilizzazione che continueremo a fare però questa serve per andare a cambiare la mentalità del cittadino e quindi il dato culturale. Non vogliamo agire solamente sotto l'aspetto numerico della raccolta differenziata ma anche sotto l'aspetto culturale e di crescita del cittadino che deve amare la propria città e quindi tutto quello che gli circonda. Il rifiuto è una risorsa ma se viene separato dagli altri materiali, quindi la carta, la plastica, il vetro sono dei materiali riciclabili e quindi possiamo trarne assolutamente da un punto di vista economico i benefici se li ricicliamo nel modo giusto. Per questo è importante il porta a porta, per questo è importante farlo anche nella maniera corretta. Infatti volevo invitare parte di quella cittadinanza che ancora non ha ben capito come funziona la raccolta differenziata di cercare per quanto riguarda il vetro di conferirlo all'interno dei carrellati o dei mastelli libero da altri materiali perché il vetro è un materiale riciclabile all'infinito ma se è libero da altri materiali ed è puro perché il costo che ne possiamo ricavare è assolutamente superiore rispetto ad un materiale invece sporco che viene depreciato per tutte le operazioni di pulizia che dovranno essere fatte e effettuate.